C'era da giurarci che non sarebbe finita lì. Il primo consiglio regionale d'Abruzzo, targato Luciano D'Alfonso, aveva già creato la prima polemica, mossa, come qualcuno si aspettava, dal Movimento 5 Stelle. La storia delle votazioni finite con un'esclusione totale dei pentastellati dall'ufficio della Presidenza regionale, oggi diventa un grido contro la democrazia negata. Noi abbiamo abbandonato l'Aula proprio dopo questa violenza inaudita nei confronti del gruppo consigliare del Movimento 5 Stelle, che è stato estromesso da cariche istituzionali che aspettavano a noi, perché siamo la prima forza di opposizione. Invece, come sempre, si è riproposto un copione che conosciamo da anni, baci, abbracci, strette di mano tra Forza Italia e PD, e poi abbiamo visto che gli esponenti del centrodestra sono stati eletti con voti del centrosinistra. A motivare l'accusa di inciucio tra le parti è il risultato delle votazioni. Il centrodestra ha guadagnato, in entrambi i casi, quello per la votazione del Consiglio della Presidenza e quello per la segreteria, una cifra di voti che si aggira intorno ai 10 per candidato. E nonostante la segretezza del voto, a fare i conti si fa presto. 31 i presenti votanti, 6 i pentastellati, 7 i rappresentanti del centrodestra e la restante parte è di centrosinistra. 10 voti a Paolo Gatti significa che almeno 3 della maggioranza abbiano votato centrodestra. I pentastellati denunciano l'accaduto e lo paragonano a Hitler. Io ho chiesto a Luciano D'Alfonso, appena finito il Consiglio, lui stava uscendo dal Palazzo delle Michiciclo, e ho chiesto cosa risponde, risponderai ai tuoi elettori, come motiverai quei voti passati dal centrosinistra al centrodestra. E lui mi ha detto, scrollando le spalle, in maniera molto molto imbarazzata, non so rispondere, non è di peso da me. Ebbene, io dico pure, anche l'instaurazione della dittatura in Germania, della dittatura nazista, forse non è di peso da Hitler. Ebbene, lui è il presidente della regione, quindi tutto quello che si è consumato, a nostro avviso, a mio avviso, fa capo a lui. Grazie.